Ferrox è il trattamento che converte chimicamente la ruggine, anche dove non la vediamo, in un composto stabile di colore nero che resiste agli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità. Una volta applicato deve essere sovraverniciato per completare il trattamento e possiamo usare qualsiasi vernice. Vediamo come funziona su questo serramento arrugginito. Per prima cosa se affiora della ruggine o della vernice non aderente e friabile eliminiamola con una spazzola a denti metallici. Poi passiamo un panno con acqua ragia in modo che la superficie risulti pulita e sgrassata. Agitiamo il flacone e versiamo la quantità di prodotto che pensiamo di utilizzare in un contenitore specifico. Attenzione non rimettete mai il prodotto avanzato nel flacone perché rischiereste di contaminare e far reagire tutto il prodotto. Intingiamo il pennello e applichiamo il convertitore di ruggine. Importante, Ferox non va applicato su superfici molto calde tipo il cancello arroventato d'estate o molto fredde tipo la recinzione ghiacciata d'inverno. La temperatura ideale è attorno ai 20 gradi. Ferox entra subito in azione e la parte rossa arrugginita inizia a diventare nera. Lasciamo asciugare per 12 ore, poi sovraverniciamo e a fine lavoro laviamo il pennello con acqua. Ferox applicato in combinazione con vernifer assicura nel tempo una straordinaria protezione dalla ruggine. Grazie per la visione!